Benvenuti nel canale, tutto su Uomini e Donne. Metti mi piace e iscriviti al canale. Grazie di cuore. Nella puntata di oggi di Uomini e Donne è apparso Ernesto, un nuovo corteggiatore di Ida Platano, già conosciuto nel dating show nel 2015. Ernesto Russo si è presentato nello show con una folta barba e capelli lunghi, suscitando molte risate da parte del pubblico e dei commentatori. Tina Cipollari è rimasta sorpresa quando il nuovo corteggiatore ha rivelato di essere già apparsa nel programma nel 2015. Ecco le foto del cavaliere durante le registrazioni del 2015, quando non aveva né barba, né capelli lunghi. Piacerà Ida Platano? Cosa ne pensate? Scrivetelo nei commenti. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale e condividilo sui tuoi social. Grazie di cuore.